c'è questo cosa o sono morto guarda dove sono in arena roma denaro e che richiede po perchè non lo so come ci sono arrivato qua in aria io stai cadendo in picchiata sto cadendo in picchiata senza fare niente in piscina stai con il forte no sono morto 461 metri come ci sono arrivato là sopra oh stanno piccolando il qua il pezzettino di ferro la fine di dunca vabbè no che schifo no tale come è rimasto vabbè che cosa sta là la calma credo sia impossibile mi piaceva che sia un blocco da mezza ruota no 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 era proprio pagato in aria l'ha preso oh vabbè tutti ora sono i sucelli questo questo guarda qua c'è una storia di vita e non prendono le palle bianco quello perché non si sparano a vicenda spano tutta una persona e poi c'è un infetto questo qua mi dà fastidio come sale e poi c'è un infetto aspetta una po' d'alto non c'è un po' d'alto che cosa non c'è un spazio da nomba oh che cosa fa di chissi ma è sopra di noi si è sopra di noi ah adesso siamo sotto punto ah edgo lo ho a cuore si vede una super nuova stiamo ritornando full stiamo a cuore come si può dare coscienza Grazie a tutti. 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 tutti. ho tanto a bianco io top mia vado 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 la storia duravamo conto cuore c'è uno con la skin dell'amo la cazza 54 gli ho tolto è blu ancora tu me partiste il corazon la cazza è entrato a scuola in globo cazza a te l'alto L'ho fatto? Piazzolo! Caccio, cagliatemi! Caccio! no all right i'm sure there's a go is it